L'angelo era perfetto e il finito di Neymar era classico, è qualcosa di speciale, e loro davvero avevano bisogno di questo. Un momento estremato che porta a Barcelona un livello. Il quattro gol di Champions League per Neymar non ha scoperto che molti gols questa season. Che manda verso la porta Neymar, in area di rigore il brasiliano, prova l'uno contro uno, partendo quasi da fermo, cerca l'assist, interessante per Fabregas che arriva al rimorchio, fa 6 a 0, è entrato da 23 minuti, l'ha già messa due volte, stavolta di sinistro un gran gol, punteggio tennistico. Cosa ha il Barcellona, tra le altre qualità, oltre alla proprio la Torri, ai tempi di gioco. Guarda come è arrivato Fabregas, Neymar l'ha aspettato, ma è stato Fabregas che ha capito che c'era lo spazio giusto. Perché i centrocampisti del Santos? Dani Nieto al partito. Fuega Adriano, va a golpeare Adriano, il tiro! Fuega Adriano, va a golpeare Adriano. Fuega Adriano, va a golpeare a neymar. Fabregas in support, Fabregas, a cross for face, a gol, è tappato in. Neymar scorsi il first gol per il club Barcelona. Sì, 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 Sì. è davvero difficile per tutti se tutto va bene, ora quindi, Barcellona con l'equalizzo Neymar, off e running sull'escrizione, Barcellona's first effort on target e la substituzione... ...è un'escrizione che ha accumulato durante i anni, Neymar, can't he join in the goalscoring party, Messi ha il escrizione, 40 minuti 2 in the space of 2 minutes ...and Neymar, good position, fits in and turned in by Messi, they've been looking for that combination all night and now it comes off, Neymar to Messi, and Messi scores la pelota al Barcelona, il envio al area... e il gol che sube al marcador, Gerard Piqué il teressere della noche, se quedò in il lanzaio del cornet, arriva Piqué ...plia, nicely ...maiso for returned, a chance for the hat-trick ...and a simple roller from Pedro, Neymar puts it in the middle E' equilibrato a Messi, la pelota ora per Alexis, già in l'area, le sigue Griezmann, centra Alexis, fallo il portero, gol del Barcelona, tremendo error di la defensa della Real Sociedad, un ballon morto in l'area chica, debia essere del portero. 7 minuti in, è 2-0 per Barca, che un blow per Sociedad, che una combinazione. Gol, 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 gol. Gol, gol del Neymar, che marca il quarto. Gol, gol del Neymar, che marca il quarto. Here's Busquets in the air, trying to quicken the play, taking on all covers, feeds it to Neymar. Neymar steadies himself, took a reflection. Now there is a way to introduce yourself into a... The name of Neymar goes down in the history books. Certamente a terrific start for the Brazilians. Folling in the footsteps of Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario. 5 o'clock UK. Neymar plays the ball through, Alexis Sanchez holds off Ferran. Tries to flip the goalkeeper, what an immense goal! Messi, Cristiano Ronaldo, hit your heart. Good opening for Neymar. Neymar is looking for the score, he's going to put in the area. Neymar is the center! Goal, 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 goal! And there's a linking of arms there. The draft is over. Little Mexicans, Barcelona with a link. He tried Pedro a vaselina, but he didn't get out. Attention to this new Barcelona, Fabregas for Neymar. Now, yes! Goal! 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 Oh, it's Barcelona! Pulls out the knife! Pinto gets the assist! Pinto, Pinto, Pinto! Van Rein, in there's a big gap, no, it's a terrible back pass. The referee has a couple of big decisions to make. Is it inside or outside? Hernandez, no chance for recuse. Lo perde quando entra in l'area. Lo perde quando entra in l'area del fútbol clube Barcelona e se contano i passi di questa gioia, le apruebo a vostè il secondo della ESO, perché la contano larguissima, 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 larguissima di passi di un lato per... Suzie Roberto, Neymar's flick, he's got it back, and he's scored again, that's a terrific hit from Neymar, and it hasn't taken Barcelona long to get going in the second half. Ah, that's another wonderful piece of football. Difficult to defend against one touch football of that quality, Neymar, a long last show he can finish. Neymar, it's Neymar, well it's helped in by Matthews, but he will claim a hat-trick. The boy from Brazil has come alive in the Champions League. Well, again, he finds a lot of time and a lot of space in the inside left channel, Ambrose doesn't get out to the ball, doesn't go to close him down. Neymar preparado con pierna derecha, Neymar... Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol La Champions League è short later on, and they're all Paris Saint-Germain gols, they're 4-0 up in Leverkusen, here's Dani Alves, 2-0! That may be curtains for Manchester City, Dani Alves has just never stopped coming forward all night long. Gets it back from Fabregas, runs into Ramos, he finds Neymar, Messi, and is the equaliser, Leo Messi on the scene, 2-2, you can see it coming, Messi had that glint in his eye, somehow got through, and it looks as though... This is a perfect pass, Neymar, big chance, taken down, that's a penalty! And a red! No mistake, Barcelona are back in it, they're playing against ten men for the remaining... And, well, my intercambio of golpes between a Barca and a Celta, for pure... перев a look, alreadyались to Alexey, gol, 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 gol... Gol de Neymar, Gol de Neymar 21 minuti del secondo periodo, vai a zapatazzo Para Neymar, se va solo Neymar Ahí va Neymar Junior, sigue Neymar El tiro Gol Gol De Neymar Gol de Neymar Gol de Neymar Para marcar No way through this time, Iniesta Well that could be a glorious ball, Neymar What an answer Neymar with the finish But Iniesta, inspirational That's a pass Daniel, what a pass That's the one that's opened The defence up, split them Wide open Andres Iniesta saw it all The angle was perfect And the finish from Neymar Was world class That's something special